Andiamo al terzo. Massimo Battista, candidato di una città per cambiare Taranto. Anche lui ha fatto molti salti della quaglia. Era un delegato della FIOM CGL, un uomo di sinistra. Poi è diventato un libero e pensante, ricordate la PECAR, dei liberi e pensanti, proprio in questa piazza. E poi dopo ancora è diventato 5 Stelle, ha iniziato a promettere l'Ilva chiusa, raccontando i 5 Stelle favole, perché non avevano gli elementi, non avevano la serietà, non avevano la professionalità di portare avanti un progetto del genere. A un certo punto poi Battista cosa fa? Alle elezioni del Presidente della provincia, non si sa chi ha votato, probabilmente tra Melucci, col quale stava in guerra e sta in guerra, e Gugliotti, ha votato Gugliotti. Perché? Perché c'erano 32 schede, tutte e 32 del Comune di Taranto sono state votate, e quindi non c'era nessuna scheda nulla, o bianca. Quindi evidentemente Battista ha votato o Melucci o Gugliotti, non avendo votato per logica Melucci, ha votato Gugliotti, di centrodestra, un ulteriore salto. E ora crea una città per cambiare, Taranto città per cambiare, ma non è ancora finita, perché a voce proclama la chiusura dell'Ilva senza se e senza ma, le frasi mie ripetute, va bene, dico, a questo punto, beh, vengano le persone che vogliono chiudere l'Ilva. Cosa strana, cosa strana, presente il programma, sintetizzato in alcuni punti fondamentali, e lo pubblica proprio due o tre giorni fa sulla pagina del movimento Una città per cambiare. Bene, questo signore a un certo punto di questo programma non compare più la parola chiusura dell'Ilva, scompare la parola chiusura dell'Exilva. Vorrei capire da te, Massimo Battista, che cosa ne è stato di questa chiusura tanto strombazzata. Come mai non c'è più la parola chiusura nel tuo programma? Forse avevi paura di metterti contro i dipendenti? E io lo ribadisco, io voglio essere amico dei dipendenti diretti di Acciaieri d'Italia e dell'Indotto. Voglio unire questa città, voglio unire operai e ambientalisti, perché chiudendo quella fabbrica si ridà vita, respiro a Taranto, ma si dà anche dignità ai lavoratori dell'Exilva. E allora Battista non ha voluto toccare più, non ha voluto toccare questa nota dolente, a suo dire, degli operai della chiusura dell'Exilva. Poi mi domando anche, vorrei sapere da Battista, dove era lui da consigliere comunale nelle varie manifestazioni, per esempio proprio degli exilva in AS. Io non l'ho mai visto ad una vostra manifestazione, signori exilva in AS. Non credo proprio che lo possiate votare, perché non vi ha mai rappresentato, quando invece da consigliere comunale, soprattutto perché era di opposizione, avrebbe dovuto battere i pugni, avrebbe dovuto alzare la voce. E non lo ha mai fatto.